passiamo ad un articolo un pochettino più diciamo un articolo dedicato più che altro al mondo dell'abbigliamento allora vediamo come sono fatti sono un paio di pantaloncini chiamateli bermuda come volete con tasche laterali in stile quasi cargo nel senso che le tasche in questo caso è anteriore mentre qui abbiamo una tasca laterale in stile cargo sono di un colore in questo caso è un blu scuro non so se dalla telecamera si vede la taglia è una 50 e come materiale abbiamo dovrebbe essere poliestere al 90 per cento esatto poliestere al 90 per cento e 10 per cento di elastamina diciamo la parte elastica chiamiamola così e niente di particolare però ripeto un paio di bermuda fatti anche mi sembrano molto bene tasche in velcro le cuciture mi sembrano fatte abbastanza bene lateralmente c'è un'altra tasca piccolina ma c'è meno sul lato destro sul lato sinistro invece abbiamo una tasca abbastanza grande diciamo che ci sta tranquillamente documenti portafogli due classiche tasche anteriori e dovrebbe avere anche una tasca posteriore andiamo a vederla se chiusa da una cerniera zip abbastanza capiente in generale mi sembra fatti molto bene diciamo non siamo prodotti di super qualità però non sono foderati però sono molto leggeri per cui anche direi perfetti con la stagione calda se arriverà mai siamo a maggio e fa ancora abbastanza freddo vi lascio come al solito lascio il link in descrizione vi invito a iscrivervi al canale per non perdere diciamo pazzi per restare aggiornati su quelle che sono le novità e a lasciare un like se il video vi è piaciuto vi è stato utile grazie e alla prossima